Perché lo spazio natura di oggi bisogna veramente essere di mente molto aperta come quella di Leonardo. E qui con noi Nicola Messina, ciao Nicola, esploratore botanico, che torna a trovarci per portarci in un mondo, possiamo chiamarlo di fiori alternativi. Diversamente profumati, potremmo dire, parlando politicali correct. Ci sono delle piante con fiori grandissimi, molto belli, ma il loro profumo non è probabilmente quello che si potrebbe definire un vero profumo, è vero? Esatto, sì. Ci sono queste piante molto particolari, in particolare oggi ne vedremo qualcuna che è l'araflesia, che è il fiore, potremmo dire, il più grande del mondo. L'araflesia arnoldi, che vive sull'isola di Sumatra, può raggiungere un diametro anche di un metro e cinquanta. Accidenti. Sì, ed è stata scoperta proprio sull'isola di Sumatra da Sir Thomas Raffles. Volevo dire però, puntualizzare una cosa, che l'araflesia in realtà non è stata scoperta da Raffles, ma fu scoperta vent'anni prima sull'isola di Java, nel 1797, da un naturalista e chirurgo francese, che fece praticamente 11 anni di ricerche, ma nel tornare nella madrepatria, già in Francia, nel canale della Manica, fu preso dagli inglesi, gli fu sequestrato tutto il bottino, le sue note, tutto quello che aveva fatto, costruito in 11 anni, e quindi tutto questo finì poi in mano agli inglesi. Quindi in realtà tutte le informazioni poi finirono appunto nei musei di Londra. Un storico furto scientifico, potremmo dire. Un furto scientifico, potremmo dire così. Qui in questa fotografia, che è qui alle nostre spalle, tra poco la vedrete anche bene a casa, c'è l'inizio del fiore di Rafflesia, è vero? Sì, l'inizio del fiore di Rafflesia è un piccolo bocciolo, che naturalmente impiega moltissimo tempo per arrivare a maturità. Qui è un bocciolo di circa nove mesi. Volevo premettere che la Rafflesia non è una pianta come tutte le altre, cioè non ha un fusto, non ha foglie, non ha radici, non fa quindi la fotosintesi, ma è una pianta parassita, in particolare un endoparassita, nel senso che necessita di un'altra pianta sulla quale attecchisce con un organo particolare che si chiama austorio, come se fossero delle ife fungine che penetrano all'interno di questa pianta ospite e cresce, cresce, cresce. Naturalmente affinché si raggiunga una fase di questo tipo molto grande, occorrono anche un anno, un anno e mezzo, anche due anni in alcune specie. Incredibile. Qui sul mio touchscreen ho un'immagine che tu hai scattato e io ho avuto la fortuna di viaggiare con te diverse volte e vederle anche dal vivo, questa è Rafflesia. In questa fotografia si vede proprio bene sia chiaramente il bocciolo, potremmo dire, qui in basso a destra, sia chiaramente i due fiori, anzi, più correttamente, qua in alto, ben sbocciati, ma si intravede anche quello che accennavi tu prima, quindi questa parte, questo bastone, potremmo dire, questa radice... Sì, è una vita, è un arrampicante. È un fusto, non è una radice, volevo dire. Esatto, sì, è un fusto appunto di un arrampicante e la Rafflesia necessita proprio di quella pianta che si chiama tetrastigma, sulla quale attecchisce. La Rafflesia appunto vorrei dire che è un fiore piuttosto raro. Perché è un fiore raro? Innanzitutto perché le fasi iniziali del bocciolo sono soggette a forte predazione, per esempio da parte del ratto dal ventre bianco del borneo, poi c'è da considerare il parassitismo anche di molti insetti, il porcospino della sonda, e poi naturalmente occorre che cosa affinché si realizzi la fioritura? Che due piante di Rafflesia siano vicine l'una all'altra, il che è un evento piuttosto raro, perché la Rafflesia è a sessi separati, quindi c'è una pianta maschia e una pianta femmina. E naturalmente è difficile trovarli simultaneamente fioriti in natura. Il fiore dura pochissimo. Dura pochissimo, dura qualche giorno e tra l'altro appunto l'antesi, cioè quel periodo, quella finestra temporale in cui avviene l'impollinazione, è molto limitata. Dopo questa fase il fiore, dopo passati 5, 6, 7 giorni, il fiore marcisce completamente e dà origine a una formazione, che forse abbiamo anche in una foto più avanti. Sì, ho questo il mio touchscreen, questo è il fiore ormai... Esatto, il fiore ormai marcio praticamente, e che cosa succede? Se non c'è stata la fecondazione, abbiamo quella situazione lì, se però c'è stata la fecondazione, si formerà un frutto, un frutto che può contenere, pensa, anche fino a 270.000 semi. 70.000, quindi tantissimi, molti dei quali non sono vitali. Vi faccio vedere anche, vi faccio vedere anche, l'impollinazione, l'impollinatore anzi, più correttamente, che sono delle mosche. Sono delle mosche, sono di calli fori, sì. Ma perché? Che profumo ha questo? Perché l'araflesia, quando arriva a fioritura, emette degli essudati, odori molto forti di carne putrefatta, che attraggono proprio questi calli fori, che sono delle mosche, diciamo, che quindi provvedono all'impollinazione. Pensi solo di ditelo col fiore, in questo caso un fiore che va regato a persone, quindi non volete particolarmente bene, probabilmente, no, scherzo ovviamente, è una battuta. Però effettivamente è un modo evolutivo molto scaltro, perché attira un impollinatore che altre piante non utilizzano. Esatto. Tra l'altro anche il fiore può avere in molte specie anche una reazione endotermica, quindi emettere calore e questo fa sì che gli odori si sprigionino in maniera, diciamo, adeguata intorno all'ambiente. Quindi sono piante che riescono veramente a far sentire la loro presenza anche a diversi metri di distanza. A diversi metri di distanza, sì. C'è anche un'altra pianta simile dal punto di vista del come attira gli impollinatori, il larotitano. Esatto. L'arotitano, praticamente, che però non è un fiore, lo ricordano, è un'infiorescenza e che non è esattamente l'infiorescenza più grande del mondo, perché c'è un'altra pianta che si chiama puia e che vive sulle ande boliviane e può raggiungere anche 12 metri di altezza. Quello che vediamo qui però, ecco, questo cos'è invece? Questo è l'infruttescenza, è lo scapo fruttifero che porta i frutti dell'arotitano. E poi abbiamo visto le foglie prima, che uno pensa che sia un ande. Esatto, invece... E questo qua è il fiore invece, è l'infiorescenza. Questo diciamo è l'infiorescenza, è questa grande spata con questo spadice che emerge e la cosa interessante è che lo spadice è termogenico, nel senso che esprigiona anche questo calore. La punta dello spadice può arrivare anche a 36 gradi ed è questo molto importante perché anche questo emana odori molto forti e il calore che cosa fa? La punta dello spadice, quindi, si fa strada negli strati alti della parte più alta della foresta, quindi più freschi, aria più calda e aria più fresca che si mescolano, producono dei moti convettivi che determinano poi l'espansione di questi odori nell'aria. Incredibile, come le piante in realtà immobili solo apparentemente riescono a muoversi e far sentire la loro presenza attorno. Grazie, grazie a Nicola Messina, esploratore botanico, che ancora una volta ci ha portato in un mondo davvero a volte sconosciuto, ma affascinante, anche se in questo caso meno profumato del solito. Veramente grande, come sempre, il nostro Nicola. Ora andiamo invece con l'altro nostro naturalista sul campo.